Mi è apparsa su Facebook questa vignetta dove ci sono delle ragazze che stanno parlando, immagino amiche, al tavolo di un bar. Eccole qua. Una dice Io in spiaggia solo topless con la mia quarta. L'amica accanto Io solo micro perizomi. L'altra ancora Io niente proprio. E l'ultima, qui sulla destra questa biondina, Io indosso ancora la mia dignità. Ora, questa è una vignetta fastidiosissima, veramente fastidiosissima. Perché? Perché sembra essere portatrice di chissà che valori. Sembra essere una vignetta, non so, femminista, dalla parte dei diritti delle donne, dalla parte delle donne. Invece è una vignetta terribilmente bigotta, ottusa e ipocrita. Io indosso ancora la mia dignità. Ora, tralasciando le motivazioni per cui una persona sceglie di andare in giro nuda, seminuda, mezza nuda, vestita, Evidentemente, in molti casi c'è comunque la voglia di essere vista e inconsciamente magari anche di essere apprezzata dagli osservatori. Ma c'è ancora quest'idea della dignità, travisando palesemente il significato del termine dignità, per cui io ho più dignità di te perché vado in giro vestita. Ma non capite che la dignità va oltre il vestiario, che la dignità va oltre l'abbigliamento? Ecco perché io affermo che la nostra è una società estremamente bigotta. La nostra è una società bigotta perché ragione in questo modo. Quella ha il perizoma, quella va in giro nuda, vende, anzi svende la propria dignità. Io invece vado in giro vestita, coperta, quindi ho più dignità. Quest'idea che il nudo tradisca la dignità. Quest'idea che se io mostro il corpo sto facendo un torto alla mia dignità. No, è il contrario. Poi dipende il motivo per il quale io mi vesti in un certo modo, dipende certamente l'intenzione che ho. Però spesso può essere il contrario. Può avere molta più dignità una persona che va in giro nuda e che usa la nudità, diciamo così, per esprimere la propria persona, le proprie inclinazioni o semplicemente perché sta bene così rispetto ad una persona che va in giro coperta ma vorrebbe essere vista, ma vorrebbe farsi vedere, quindi è bugiarda, ipocrita, e va in giro come se non bastasse dicendo che lei ha una dignità di ferro, a differenza delle altre che l'hanno svenduta. Basta. Con quest'ipocrisia ancora, con quest'idea, con questo pensiero malato per cui la dignità coincide con quel concetto terribile che ci hanno inculcato e che ancora oggi è fortissimo di serietà. La ragazza seria. La ragazza seria è quella che va in giro coperta, quella che non si sveste. La serietà non è quella. Non vuol dire che sei seria perché non ti spogli e neppure viceversa. Il criterio della serietà va al di là del rapporto che una persona ha col proprio cuore. Quindi ecco, questa vignetta è un esempio simpatico, se vogliamo definirlo simpatico, di bigottismo. Cioè ci fa capire quanto la nostra società sia effettivamente bigotta. E lo capiamo. Perché comunque, nonostante oggi sia stata un po' sdoganata questa cosa, noi vediamo ragazze, ragazzi, insomma, andare in giro effettivamente molto scollate, scollati, spesso. Però c'è sempre quel retropensiero, per cui anche chi va in giro vestita così, o svestita così, se volete, però si sente in colpa. Però sa che in qualche modo quello che fa non sarà gradito, non sarà apprezzato, non susciterà le simpatie simpatie della moltitudine. Perché il pensiero dominante è quello. L'idea è che la dignità va preservata e la dignità si vede dal modo in cui ti vesti. Per cui, se tu sei coperta, allora sei seria. Se sei scoperta, sei una poco di buono, non sei seria, hai perso la dignità. La dignità intanto preesiste all'abbigliamento, preesiste alle idee politiche, sociali, religiose. L'essere umano è dotato intrinsecamente di dignità. Anche quando sbaglia, anche quando produce vignette, sceme tipo questa, l'essere umano la dignità ce l'ha intrinsecamente. Ma ad ogni modo il criterio per valutare la dignità di una persona è l'abbigliamento per cui tu vai in giro senza reggiseno, tu non hai dignità. Io che sono coperta ce l'ho. E perché mai? Perché? Qual è il nesso? Spiegatemelo. Non c'è il nesso, non potete spiegarlo, perché non esiste, non c'è alcun nesso. È il bigottismo della nostra epoca. Un'epoca che non sembra bigotta. Voi direste mai di vivere in una delle più, delle epoche più bigotte di sempre? No. Eppure è così. Eppure è così. Però quando si parla di bigottismo si parla dell'età vittoriana in Inghilterra. Si parla della Chiesa, si parla del Medioevo, si parla in un certo senso anche del ventennio fascista. Il bigottismo. Oggi il bigottismo è peggiore. Perché una volta era in qualche modo palese. Cioè tu sapevi che non potevi pubblicamente fare quella cosa. Allora invece oggi apparentemente è sdoganato. Nessuno si scandalizza se vede una ragazza che va in giro con una maglietta e sotto non ha il reggiseno. Nessuno si scandalizza se vede una donna che va in giro con l'ombelico di fuori. Quindi è stata sdoganata una certa apparenza. Oggi si può andare in giro vestiti in un certo modo. Però spesso si va in giro vestiti in un certo modo con il senso di colpa. Oppure pensando questa idiozia qui che pensano queste qua che parlano. Eccole. Vedi come parlano? vedi? Eccolo qui. Io solo con il microperizoma. Io invece non indosso nulla. E invece lei che cosa indossa? Lei indossa ancora la sua dignità. Ecco. Eccolo. 2024 siamo quasi 2025. Epoca aperta. Noi siamo mentalmente aperti. Però sotto 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 ma molto sotto se una va in giro mezza nuda non è seria. Eh no. Non si va in giro nudi. Tant'è che inseriamo questa dignità per tutto. Ci sentiamo persone pregne piene di dignità perché ci copriamo perché non manifestiamo ciò che abbiamo di più intimo. Tutto questo è falso veramente fasullo. E mi dispiace ancora vedere che c'è gente che ragiona in questi termini. È una vignetta veramente brutta veramente antiestetica priva di riferimenti intelligenti priva di messaggi belli veri soprattutto significativi perché la dignità non c'entra nulla con il modo con cui ti vesti. Tu puoi andare in giro nuda puoi fare anche la escort. Bene. Essere piena di dignità sicuramente più degli ottusi dei bigotti e degli ipocriti. Per chi non l'ha ancora fatto vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube come qua sotto c'è un tasto con scritto iscriviti vi invito a cliccare lì per rimanere aggiornati sui prossimi video e vi invito anche a vedere altri video a lasciarmi un commento su questo video voi cosa ne pensate di questa vignetta cioè di questa gente che ancora è convinta queste persone che ancora pensano che la dignità dipenda dal vestiario e sono così convinte che non mostrare elementi del proprio corpo non mostrare i propri genitali le proprie zone erogene beh tutto questo pensano che significhi essere persone più serie che illusione quindi aspetto i vostri commenti grazie un saluto da Daniele Andreani grazie a tutti